Il ritorno alle classiche atmosfere della seconda guerra mondiale porta una boccata di aria fresca alla serie di Call of Duty. Dopo una lunga digressione nel futuro, era tempo di tornare ad affondare gli stivali nel fango, oltre che di dare nuovamente una lezione ai nazisti. Partendo dalla campagna giocatore singolo, l'opera di Sledgehammer Games farà attraversare ai giocatori alcuni dei punti più importanti del conflitto, dallo sbarco in Normandia alla liberazione di Parigi, alternando sparatorie frenetiche a storie di racconto in cui potremo approfondire la storia e i personaggi. Degni di nota sono ad esempio una missione nella quale saremo sotto copertura o i momenti nei quali dovremo eseguire alcuni semplici commissioni nel nostro accampamento. Due chiari esempi, assieme ad un minimo di distruttibilità degli edifici, di come lo sviluppatore abbia provato a esplorare alcune varianti alla classica formula narrativa utilizzata nei Call of Duty. La costruzione dell'empatia con i propri commilitoni passa attraverso tre momenti, le scene di intermezzo dove approfondiremo la conoscenza dei protagonisti, le sequenze nelle quali controlleremo direttamente uno di questi personaggi che sfortunatamente sono meno di quante ci sarebbe piaciuto avere e infine durante il gameplay stesso dove avremo la possibilità di chiedere munizioni, granate e medikit. Quest'ultima una meccanica che ci troveremo spesso a dover sfruttare, questo perché le armi saranno meno precise, capienti e veloci di quelle viste all'opera nei capitoli futuri e per questo dovremo spesso chiedere nuove munizioni per non rimanere a secco. Similmente l'energia non si ripristinerà automaticamente ma dovremo utilizzare i medikit per curare le nostre ferite. Durante alcuni momenti ci sarà anche richiesto di compiere delle geste eroiche, ovvero ad esempio di abbandonare la battaglia per salvare un nostro compagno o di decidere le sorti di un tedesco catturato, se imprigionarlo o eliminarlo. La maggiore difficoltà riscontrata durante la campagna però non è data soltanto da un'IA tutt'altro che brillante, ma anche da fattori come un'interfaccia non in grado di segnalare adeguatamente i colpi in arrivo o dalle uniformi dei personaggi, alleati e avversari troppo simili tra di loro. Inoltre non sempre il feedback delle armi è ottimale e talvolta non si capisce se abbiamo colpito il nemico, questo soprattutto per via di animazioni poco convincenti che non rendono particolarmente chiara la gravità di una ferita e la drammaticità della morte. Non ha da dire per quanto riguarda il comparto sonoro, ottimi sia il doppiaggio che la collezione di musiche ed effetti ambientali. Abbandonando il giocatore singolo e spostandoci sul multigiocatore, si tornerà dopo diversi anni a combattere con i piedi per terra. Ma non sarà soltanto per l'assenza del jetpack o delle corse sui muri per cui questo code risulterà più pacato, troveremo infatti armi da fuoco più pesanti e meno cadenzate e le mappe risulteranno decisamente più varie non soltanto esteticamente ma anche nelle dimensioni. Anche se alcune situazioni potrebbero essere simili come i combattimenti tra i bunker o in mezzo alla neve, in Call of Duty World War 2 non si sente la pesantezza e la drammaticità di alcuni scontri di Battlefield 1. Online il tono è sempre leggero e divertente, confezionato a misura di eSport. Nonostante questo però questo nuovo capitolo segna comunque un passo notevole rispetto a quelli precedenti. Le modalità a disposizione sono abbastanza classiche e vanno dal deadmatch a squadre al cattura alla bandiera, con l'unica novità rappresentata da Gridiron. Il feedback delle armi e la lettura delle hitbox, al contrario della campagna, sembrano decisamente differenti, garantendo il solido, fluido, preciso e frenetico gameplay. Le divisioni sostituiranno le classiche classi, ognuna definirà il tipo d'arma principale che sarà meglio utilizzare per ottenerne un bonus e le missioni che si potranno riscattare dal quartier mastro. Sarà infine presente un quartier generale, una sorta di area social simile alla torre in Destiny, in cui sfuggiare il nostro soldato con le scelte estetiche da noi applicate e in cui saranno presenti diversi NPC come un armaiolo, un quartier mastro che distribuirà in carichi giornalieri settimanali, un poligono di tiro, un cinema per vedere le migliori partite dei professionisti e un luogo nel quale affrontare uno contro uno un altro giocatore. Sempre rimanendo nel multiplayer questo capitolo presenta anche una seconda novità, ossia guerra. Una modalità che si discosta completamente da tutte le altre presenti e una sorta di via di mezzo tra corsa di Battlefield e Overwatch, in cui i due team si alterneranno tra attaccanti e difensori. Gli obiettivi, step per step, saranno differenti, dall'uscortare un carro armato al costruire un ponte per proseguire l'avanzata. Le uniche pecche sono date dalla presenza di soltanto 12 giocatori, 6 contro 6, pochi per una modalità che avrebbe potuto offrire di più, e dalla presenza di soltanto 3 mappe. L'ultimo elemento in questo solido pacchetto è rappresentato dalla modalità Nazi Zombie. In questo caso Sledgehammer ha abbandonato tutte le frivolezze viste negli anni passati, concentrandosi sull'atmosfera horror, il cast stellare e una migliore accessibilità. Le meccaniche sono quelle classiche, con l'unica differenza che non sarà più possibile ricostruire le barricate. Inoltre saranno presenti dei piccoli indizi opzionali per guidare i neofiti durante la loro avventura. Nazi Zombie quest'anno presenta una formula asciutta e classica, ma non per questo meno divertente delle passate stagioni. Dal punto di vista tecnico Sledgehammer non ha rivoluzionato il motore di gioco, ma ha contribuito a limare e perfezionare gli strumenti a sua disposizione. Call of Duty World War 2 non stravolgerà i canoni della serie, ma è nuovamente un capitolo solido in tutte le sue componenti che, grazie al ritorno alle meccaniche passate, riesce ad essere fresco, soprattutto in multiplayer. L'introduzione del quartiere generale e della modalità guerra sono le due novità di maggiore spicco, che mostrano come Sledgehammer non disdegni la sperimentazione e provi a offrire nuovi modi di intendere la serie di Call of Duty. Nazi Zombie offre un'esperienza classica ma di livello, mentre la campagna, pur non abbandonando quel pizzico di retorica stelle e strisce e con qualche difetto strutturale, racconta una storia in maniera piacevole e spettacolare, attraverso alcuni degli scenari e delle battaglie più epiche della seconda guerra mondiale, ma è l'online grazie alle mappe di dimensioni variabili, alle tante modalità di gioco e al ritorno di un ritmo pur sempre frenetico ma più ragionato che in passato, che Call of Duty World War 2 brilla e convince.